Sono 52.000 i campani rimasti senza la possibilità di scegliere il proprio medico di famiglia, destinati a rassegnarsi e obbligati all'assegnazione predefinita. La carenza di organico nella regione campagna da tempo è arrivata alle stelle. Il fenomeno continua a fornire dati molto preoccupanti. Solo quest'anno, raggiunti i limiti di età, sono stati 250 i medici andati in pensione, per nulla rimpiazzati da forze nuove. Il quadro della situazione è da film horror. Il Cardalelli di Napoli, ad esempio, si trova con otto reparti senza primario. Tra pensionamenti, medici che arrivate al collasso fisico per via di turni preferiscono chiedere trasferimenti e persino chi cambia mestiere, la regione campania è maglia nera e simbolo negativo per tutto il territorio nazionale. Gli ambulatori sempre più rari e più affollati, in particolare nelle aree interne. Secondo gli indicatori del rapporto annuale della Fondazione Gimbe, la media nazionale è di 2,11 medici per mille abitanti, ma la campagna è al minimo 1,84. Al primo posto la Toscana, al 2,56, con una differenza del 39%. Situazione grave anche per i pronto soccorso. In condizioni normali, il personale medico e infermieristico deve affrontare un numero medio giornaliero di 150-200 pazienti, con punte che possono arrivare fino a 300 in certi periodi dell'anno. Tuttavia, il numero di personale è estremamente insufficiente con solo i 2,4 medici e 4,8 infermieri.